La formazione di Alessandro Pane, Mei al posto di Esposito, Nardini al posto di Ponzo, Padoini interno destro, Scantamburlo sulla sinistra e la davanti, Dall'Acqua e Martini, circa 1700 abbonati più 800 paganti, di cui ben 34 arrivavano da Monza. Il calcio professionistico contro la fame del mondo, tutti contro 963 milioni di persone che soffrono la fame del mondo, ecco il perché di questa maglietta in favore veramente di questa campagna contro la fame del mondo. Andiamo a vedere come inizia la partita, inizia in modo nervoso, diciamo la verità, la prima cosa rifila un ceffone sulla nuca a Torri, il quale Torri si tiene la bocca, attenzione, la botta è nella schiena e Torri si fa male alla bocca, sono i misteri del calcio. Mei è molto nervoso all'inizio e va a buttare via anche Rossi, Rossi dice ragazzo va bene, adesso te lo stavo dando il pallone, eccola qua, la manata di Mei, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Reggiana, come abbiamo detto la settimana scorsa, sente l'importanza di questa partita, Nardini, Nardini in profondità per dall'acqua, il destro, e vabbè, il destro è questo qua, il pallone termina sul fondo, andiamo avanti, ancora Reggiana, il pallone per Nardini, giocato, bella questa da Scantamburlo, guardate il sinistro, Scantamburlo, Nardini al volo di destro, pallone che attraversa lo specchio della porta, non ci arriva dall'acqua, ma non era un passaggio, era un tiro in porta, non ha minuto, Martini ci prova di destro, c'è sulla destra la possibilità di inserire Nardini, infilarlo in velocità, Nardini nulla da fare, angolo di Scantamburlo, mischia sotto la porta del Monza con il portiere Rossi che manca il pallone, poi la difesa in qualche modo riesce a liberare, ancora Martini dalla distanza ci prova con il destro, si sente ispirato, ma il suo destro non è certamente ispirato, guardate dove finisce il pallone, il gol, il gol nasce al venticinquesimo minuto, Vito Grieco batte un angolo, sul primo palo va Padoin a spizzare di testa il pallone, eccolo Padoin e arriva dalla parte opposta Martini che mette dentro, è uno schema, avete visto infatti il movimento di Padoin che esce dal primo palo proprio per andare a toccare questo pallone, dalla parte opposta sono in due i giocatori della Reggiana appostati per buttarlo dentro il pallone, arriva Martini che non ha difficoltà di testa di insaccare l'angolo di Grieco sul primo palo, Padoin e poi arriva Martini che mette dentro, uno a zero, partita che dovrebbe essere tutta in discesa per la Reggiana, calcio di punizione di Mazzocco, fallo di mano di Torri che devia il pallone con una mano, il guardaline dice centrocampo, l'arbitro dice fallo di mano, poi Torri dice va bene, va bene fallo di mano, sì sì è vero, è vero, della serie, primo aspetto che l'arbitro dica di no, poi dopo dico che sì sì è vero, ho fatto fallo di mano, vabbè apprezziamo il gesto di Torri, magari se lo facevo un secondo prima era meglio, però infatti vedete i giocatori della Reggiana dice va bene, va bene, non ti preoccupare, l'importante è che l'arbitro abbia annullato il gol e ti ammonisca, apprezziamo il fatto che tu ti sei autoaccusato di questo, dicendo mi sono sbilanciato e ho toccato il pallone, se andiamo a rivedere, insomma il braccio è piuttosto alto, vedete il sinistro va a toccare il pallone, insomma una sbracciata. Zini su Rossi, l'intervento di Zini è sul pallone, il pallone carambola sul viso di Rossi che riceve una bella pallonata in faccia, vedete il pallone proprio che viene colpito da Zini e rimbalza sul viso di Rossi, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, trentottesimo Tomasig dimostra che proprio oggi non è la sua giornata, come gli ha sottolineato in un'intervista a Enrico Liusetti, Tomasig ha detto no, no, va tutto bene, beh insomma questo pallone qui diciamo che per fortuna c'era anche il palo perché non era il massimo come parata, trentanovesimo Martini triangolo con Dall'Acqua, nulla da fare, viene chiuso al momento del tiro, alla quarantasettesimo minuto c'è il fuorigioco di Quadri, qualche protesta ma Quadri è seppur di poco oltre Vito Grieco che è l'ultimo giocatore della linea difensiva della Reggiana, guardate già in questa inquadratura sede non c'è più il giocatore, quindi fa bene l'arbitro ad invalidare questa azione. Secondo tempo, partiamo subito con un calcio d'angolo, bravo Grieco sul primo palo che va a salvare di testa, vedete, poi l'azione prosegue e qui è Tomasig che esce bene e mantiene il pallone nonostante la caduta. Ottavo minuto, ancora Rossi, ancora Tomasig, Rossi si porta la palla sul destro, tiro, Tomasig non si lascia ingannare dal rimbalzo, undicesimo minuto, bella azione di Martini che però non viene finalizzata da nessun compagno, un paio di finte, se ne va in mezzo a due, va sul fondo, mette in mezzo, nessuno riesce ad intervenire. Gol, gol del Monza al ventisiesimo minuto, Bolzan sbaglia completamente il cross e si arrabbia con se stesso, guardate che fa un gesto come per dire ma che cosa ho combinato. Arriva nel momento del sole, il pallone, guardate, ecco, in questo momento nettamente abbagliato dal sole, vedete anche l'ombra che è proprio in linea, il tiro di Mazzocco completamente sbagliato, Bolzan di piatto destro mette dentro, tutto firmato Bolzan e questo gol, sbaglia il cross, arrabbia con se stesso, Tomasig che fa per andare a prendere il pallone ma viene proprio abbagliato dal sole e si vede chiaramente, non è una giustificazione, questo è chiaro, la colpa è tutta sua, ci mancherebbe altro, però insomma vi spieghiamo anche il perché, Mazzocco sbaglia completamente il tiro e spesso e volentieri diventa il passaggio vincente, mai si sognava di fare un assist del genere, l'ex della Reggiana Stefano Mazzocco. Martini, entra in area di rigore, tutt'al più un calcio di punizione a due, è vero che Teani va diritto su Martini, sembra quasi ignorare il pallone, vedete, però massima e ostruzione, assolutamente non si può parlare di rigore. Trentottesimo, lancio di, qui c'è la sostituzione a Rati-Padoin e poi parleremo anche di questa sostituzione che sinceramente proprio non mi è piaciuta, nel modo più assoluto. La Reggiana sull'1-1 togli Padoin per inserire Rati, ma passa il 4-3-3, come è successo a Verona, vabbè, ma ci sono considerazioni da fare dopo, andiamo a vedere Martini, controlla bene, prova il sinistro, bravo Martini, oggi certamente con Grieco uno dei migliori della Reggiana, ci mette ancora il piede destro Teani e riesce a deviare in calcio d'angolo. Attenzione a Vicari, Vicari, Vicari Rossi mette in mezzo, pallone destinato sul fondo, lo sfiora Tomasic, ma il pallone era già destinato sul fondo. Dall'acqua il sinistro della serie, la porta prima o poi la centreremo, bravo dall'acqua e controlla con il sinistro, però insomma dai 16-18 metri la porta, bisognerebbe anche cercare di centrarla. Quarantottesimo minuto dall'acqua, vince un contrasto e può diventare questa un'azione pericolosissima per la Reggiana dall'acqua, va sul fondo, si ferma, vede Acostì, pallone per Acostì, il tiro c'è la scivolata di Puleo che riesce a deviare il pallone. Guardate Teani che ne combina un'altra delle sue, riesce a giocare bene dall'acqua, questo pallone mette in mezzo e poi c'è l'intervento in spaccato di Puleo su Acostì che ribatte il pallone che sembrava destinato in fondo al sacco e l'ultima azione della Reggiana, mesti mesti, i giocatori Granato vanno sotto la curva a salutare i tifosi, finisce 1-1.